Visita al carcere Terramano di Castrogno, organizzata dal Partito Radicale. Tra i presenti anche il garante dei detenuti Gianmarco Cifaldi, il sindaco di Tenamo e l'onorevole Giulio Sottanelli, i sindacati. I temi affrontati sono da anni gli stessi perché, nonostante interrogazioni e proposti di legge, poco o nulla è cambiato. A cominciare da quel sovraffollamento che fa dell'Istituto Terramano uno dei più pieni d'Abruzzo e d'Italia, con i suoi oltre 400 reclusi a fronte di una capacità di circa 250. In primo luogo c'è il dato generale che purtroppo stiamo con un sovraffollamento al 165%. Questo significa che ci sono 420 detenuti al posto dei 255 regolamentari. Quindi questo è un dato purtroppo costante in riferimento a quello che rilevavamo già ad agosto, a ferragosto in carcere. Questa Befana in carcere del 2023 vede una situazione a Castrogno dove c'è un rispetto reciproco nella comunità carceraria, quindi sia tra i detenuti sia tra i detenenti. Quindi c'è questa maturazione di consapevolezza che il carcere è appunto una comunità. Il sindacato del SAP da tempo denuncia la mancanza cronica di personale, la possibilità di utilizzare il taser contro i riottosi e l'assegnazione di unità cinofile per contrastare l'introduzione di droghe. Ma anche la schermatura dell'Istituto dei Cellulari visto i telefoni rinvenuti l'ultimo due giorni fa dentro una sedia. Una condizione sulla quale il garante dei detenuti Cifaldi ha annunciato di essere al lavoro per migliorare l'attuale condizione. Questo rientra in una continua attenta verifica delle condizioni. Il carcere di termo, come più volte sottolineato, ha gravi carenze dal punto di vista organico e necessita un'attenzione massima perché bisogna destinare un nuovo direttore, bisogna creare le condizioni di personale, l'area educativa deve essere potenziata e l'area sanitaria. Tutte queste cose sono state attenzionate. Oggi un incontro allargato che è importante perché carcere fa parte della città di terra, non può essere dimenticato, non a caso è venuto anche il sindaco.